Il prezzo non va ad influire su questi parametri. Il prezzo è più basso perché, un po' per i motivi che in una delle domande precedenti spiegava il collega, non ci sono i costi di sviluppo del farmaco dietro. E poi perché ovviamente un farmaco equivalente nasce già con un'intesa che costi meno. E poi da questo punto di vista, per esempio, ci sono regole nazionali. In Italia c'è una scontistica, cioè quando si va a stabilire il prezzo del farmaco equivalente, che parte da un minimo, cioè uno sconto minimo. Ma ormai noi abbiamo delle fasce di sconto che vanno fino al 75% in meno rispetto al costo del farmaco originatore. C'è stato anche a un certo momento un meccanismo automatico per stabilire l'entità della scontistica. Quindi diciamo che questi sono tutti quanti aspetti che sono con un'esperienza che ormai è, diciamo, a partire dal 2002 circa, ben consolidati e su questo aspetto del risparmio. No, no, adesso se vogliamo spiegare qualcosa in più a chi ci sta seguendo. Quindi il farmaco equivalente arriva con un prezzo scontato rispetto all'originator, anche fino all'80% e oltre. Il sistema sanitario nazionale, se si tratta di un farmaco che viene appunto rimborsato dal sistema sanitario nazionale, rimborsa il costo del farmaco equivalente, non quello del farmaco originatore. E anzi, rimborsa il costo del farmaco equivalente che costa meno all'interno di tutto il paniere dei farmaci equivalenti che esistono per un determinato principio attivo. Quindi il sistema sanitario nazionale fornisce un livello base di assistenza, è un po' un concetto di livello essenziale di assistenza. Il, diciamo, la quota è quindi assicura a tutti i pazienti che hanno bisogno di quel farmaco, di poter ottenere il farmaco, perché se prendi il generico in farmacia non spendi nulla, no? Si mantiene la possibilità comunque di poter avere anche il farmaco branded per chi lo desiderasse, l'originator, perché magari ha iniziato a fare la terapia con quel farmaco, però, diciamo, c'è un differenziale di prezzo, cosiddetto, che è a carico del paziente. Cioè, se il paziente vuole il branded, poi deve metterci questa differenza di prezzo. Si, noi abbiamo visto anche prima questo, infatti. Che, diciamo, poi io consideri che mediamente per ogni paziente potrebbe essere un costo anche che si può affrontare, perché può essere una differenza di qualche euro, ma comunque, diciamo, sono cifre che se noi consideriamo nell'assieme, per esempio nel 2016, l'ammontare del, diciamo, il differenziale di costo fra genetici e branded, cioè quello che i pazienti hanno messo di tasca proprio, in un anno è arrivato a superare il miliardo di euro. Che è quanto il governo ha messo in bilancio per pagare tutti i farmaci innovativi e oncologici. Quindi sono cifre, sono bei risparmi, ecco.